No, questa foto è speciale perché lei mi ha cambiato la vita, lo dico sempre, in tutti i modi, fuori il campo, dentro il campo e poi ogni giorno che arrivo a casa sono finiti i problemi. Questa stiamo tornando dalle vacanze, siamo andati a Ibiza e lei si aveva addormentata in braccio alla mamma e poi la mamma voleva andare in bagno e ho dovuto tenerla io, fino a che non siamo arrivati a Milano non si è svegliata, quindi ho dormito bene in braccio Europa. Bellissime, perché è stato dopo il mondiale, per me era un periodo importantissimo per la vita di calciatore, di professionista, dopo aver vinto il mondiale, ricevere questa notizia di stare aspettando il secondo figlio, è un'emozione incredibile. L'ho saputo a Natale, me l'ha detto lì, in Baglia Blanca, nella mia città, con la mia famiglia, è incredibile. È un'emozione unica e una sensazione che sicuramente mi ricorderò per tutta la vita. Buona festa del papà a tutti! Grazie 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 a tutti